buongiorno ragazzi bentornati sul canale quest'oggi parleremo di napoli e faremo una pagella del campionato che è stato con tutti gli elementi della rosa prima di cominciare con la pagella dei giocatori del napoli vi invito come sempre ad iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto cominciamo subito con i portieri allora alex meret alex meret secondo me da 5 e mezzo quest'anno perché ci sono stati vari errori che hanno determinato alcune partite e poi è un portiere che non comanda la difesa rimane sempre sulla linea di porta stiamo aspettando che esploda però per il momento per il campionato che ha fatto secondo me meret 5 e mezzo o spina davido spina da 7 secondo me quest'anno perché se andiamo a guardare gli episodi salvataggi che ha fatto e alcune grandi parate il napoli ha sicuramente 6 7 punti in più anche grazie a lui quindi o spina 7 per la stagione trascorsa culibali allora culibali gli ho dato 7 meno perché ha fatto un grande inizio di campionato ovviamente è un grandissimo giocatore solo che tornato dalla coppa d'africa ha avuto 3 4 partite di appannamento tanto è vero che penso che spalletti non se la sia sentita di metterli in panchina tornato dalla coppa d'africa però visti i risultati il mese di coppa d'africa che non c'era culibali anguissà gli africani che stavano impegnati nella coppa il napoli ha preso pochissimi gol nelle cinque partite dove eravamo senza africani in rosa però culibali 7 meno una grande stagione lo stesso grande calidù allora ramani ramani da 7 perché è migliorato tantissimo dopo l'anno scorso gioca comunque bene sia con juan jesus che in culibali quindi ramani un bel sette in stagione pieno se lo merita tantissimo quindi ramani un bel sette in stagione se lo merita per tutto quello che ha fatto tu anzebe invece senza voto perché l'abbiamo visto una sola volta e sicuramente tornerà indietro dal prestito il napoli non lo riscatterà quindi non possiamo dare un voto a tu anzebe juan jesus allora juan jesus juan jesus giro 7 perché juan jesus quando è stato chiamato in causa è stato sempre pronto e poi come ho detto prima durante la coppa d'africa ha dovuto prendere l'eredità di culibali che non è semplice per un panchinaro e invece si è espresso alla grande dando grandissima sicurezza e dove il napoli in cinque partite secondo me ha preso meno gol di tutto il campionato quindi grande juan jesus e sette in pagella mario rui mario rui gli diamo sei e mezzo perché è stato l'unico sulla fascia sinistra da poter utilizzare quest'anno tanto è vero che a volte spalletti non avendo il terzino spostava di lorenzo a sinistra comunque mario rui qualche errore l'ha fatto ma lo sappiamo benissimo che il livello tecnico di mario rui non è eccelso ma si gioca sempre tutte le partite quindi sei e mezzo mi sembra un buon voto di lorenzo di lorenzo secondo me è colui che avrà il voto più alto nella mia pagella 8 in pagella per giovanni di lorenzo perché prima di tutto ha vinto l'europeo a giugno giocando un grandissimo europeo e poi ha fatto un anno a napoli formidabile è l'unico che ha sempre corso tutta la partita cross come si deve lucido e poi si è sentita la mancanza anche quando è stato fuori le ultime partite anche se zanoli ha fatto il suo comunque giovanni di lorenzo 8 in pagella per quest'anno kevin malquitt allora malquitt è stato utilizzato molto poco solo che quando è stato utilizzato ha fatto degli errori madornali sarà anche perché quando non vieni chiamato in causa tutte le partite non hai quella continuità allora perdi perdi di lucidità e brillantezza quindi comunque fai degli errori che forse non faresti se ti giochi tutto il campionato sulla tua fascia comunque malquitt per me quest'anno è da 5 alessandro zanoli per me alessandro zanoli è da sei pieno perché è stato chiamato in casa quando di lorenzo non poteva giocare e comunque la partita si è giocata tanta corsa il ragazzo è giovane ci sono tantissime speranze di crescita quindi secondo me possiamo anche puntare su zanoli come il secondo di lorenzo l'anno prossimo senza comprare nemmeno il terzino destro zanoli e di lorenzo siamo coperti zanoli 6 anguissa anguissa è un grande acquisto un perno del centrocampo anche se ha perso solo un po di lucidità anche lui come culibali dal ritorno della coppa d'africa però tutto sommato ha fatto una grande stagione non averlo in mezzo al campo purtroppo si è visto che il napoli senza anguissa che è l'unico giocatore atletico che recupera pallone in rosa alla fine perde tantissimo a livello difensivo quindi anguissa per me 6 e mezzo è una grande stagione lobotka allora lobotka è il perno del centrocampo del napoli il metronomo di quest'anno quindi 7 in pagella per lobotka perché abbiamo visto come è mancato nelle ultime cinque apparizioni non è mancato due partite o tre il napoli non gira di nessuna maniera centrocampo se non ha il regista di turno che purtroppo è solo lui perché fabiana non lo so fare zielinski lo stesso e demme troppo altalenante quindi 7 allo botka e ricominciamo da questo giocatore per il centrocampo del napoli perché è fondamentale demme demme per me ha un voto tra il cinque e mezzo e 6 più un cinque e mezzo che sei però dobbiamo anche dire che è stato utilizzato molto poco quindi gli lasciamo questo sei politico perché il ragazzo forse può rendere di più e bisogna puntarci di più però per il momento per me è un sei regalato quasi che è un cinque e mezzo dai comunque grande demme lo stesso e nel caso non andasse via quest'anno vediamo l'anno prossimo se mi sono sbagliato no fabian allora fabian ruiz è un grande calciatore per me solo che è troppo lento e lento a centrocampo ovviamente è stato usato come quasi come regista nel recuperare valloni e nel dettare i tempi comunque è troppo lento e gli do un sei pieno perché comunque 5 secondi le ha fatti e il sinistro non si può discutere solo che per un centrocampista del suo calibro mi sembra ancora poco se hai a fabian ruiz e speriamo che non vada via e la prossima stagione con quel sinistro infiliamo i palloni all'incrocio di rischi 5 in pagella secondo me è stato l'anno più brutto da quando è stato a napoli anche perché forse è stato utilizzato sempre fuori ruolo però da uno come lui ci si aspetta che almeno il passaggio il cross qualche tiro in porta che inquadri lo specchio quest'anno proprio psicologicamente secondo me zielischi è mancato e sono mancate anche le sue giocate quindi per me ritorna presto il zielischi che era quando l'abbiamo acquistato e speriamo che mi possa ricredere su questo 5 e che l'anno prossimo ti possa dare un 8 pieno in pagella elmas allora elmas diamo 5 e mezzo perché secondo me è stata un'annata una spanna dietro a quello dell'anno scorso è stato utilizzato un po di meno però quando è entrato quest'anno comunque ha fatto qualche gollo ma non ha fatto la differenza quando è stato chiamato in causa però tutto sommato è un 5 e mezzo che quasi sei però elmas può dare molto ma molto di più a napoli insigne allora insigne ho dato 5 e mezzo per l'annata più brutta che ha fatto a napoli pochi gol e pochi assist però secondo me su insigne pesa la firma a gennaio sul contratto con il toronto quindi qualsiasi giocatore sulla faccia della terra secondo me se firma un contratto a gennaio non può rendere nella squadra dove rimane non può rendere sei mesi con la testa libera perché comunque pensi sempre alla nuova società e hai la testa sempre altrove quindi secondo me questo ha pesato sul 5 e mezzo di lorenzo insigne che ringraziamo gli auguriamo tanta felicità al toronto sperando che lo faccia risalire dalla zona retrocessione perché ho visto che non se la passa tanto bene in canada lo sano allora lo sano 5 e mezzo lo sano secondo me è stato pagato troppo per quello che vale almeno per quello che abbiamo visto per quasi 50 milioni almeno i piedi sotto porta devono essere dritti non è che mi arriva il pallone nell'area piccola è capito io non segno sono stato pagato 50 milioni vuol dire che nei momenti dove si deve buttare la palla dentro io devo essere decisivo non posso essere solo corsa un dribbling che una volta riesce 3 no aspettiamo il lo sano che tutti si aspettano e per ciò che hanno pagato però per il momento è 5 e mezzo politano allora politano per me è un 6 pieno politano quando è stato chiamato in causa comunque ha sempre fatto benino qualche gol l'ha fatto gli pesa l'alternanza con lo sano su quella fascia però a mio avviso io partirei sempre con politano e con lo sano come alternativa quindi sei a politano ovviamente 5 e mezzo lo sano che l'ho dato prima ci sta politano 6 abbiamo un ass che un asse un altro senza voto perché non possiamo giudicarlo troppe poche apparizioni anche se a me un asse tecnicamente piace tantissimo però purtroppo non abbiamo potuto vederlo come si deve quindi senza voto o simen o simen gli diamo un 7 pieno perché ha sempre buttato dentro o quasi sempre buttato dentro tutte le occasioni che gli si sono presentate davanti anche se quest'anno è stato comunque sfortunato nello scontro con screener quando si è rotto la faccia quindi o simen è un 7 pieno perché ha tirato l'attacco del napoli per tutte le partite dove ha giocato quindi chapeau per victor e speriamo che lo teniamo fino all'anno prossimo almeno perché un attaccante in crescita e privarcene quest'anno sarebbe veramente da polli petagna andrea petagna chiamato in casa per fare la terza prima punta dopo simen e mertens alla fine quando simen ha avuto l'infortunio alla faccia ha dovuto giocare lui e si è fatto trovare pronto qualche volta ha tolto anche le castagne dal fuoco in partite un po così segnando tipo il gol del pareggio facendo qualche assist pesante comunque sei pieno ad andrea petagna mertens mertens allo stesso set di osi man forse quello di osi man vale di più perché osi man ha fatto più gol però mertens quando viene chiamato in causa fa sempre la sua e privarsi di un mertens secondo me è assurdo spalletti quest'anno ci ha puntato troppo poco e con un mertens in più 4 5 punti li avremmo avuti secondo me più dei 79 fatti quindi 7 a mertens e speriamo che rimane ancora l'anno prossimo firma il contratto ciro che ti aspettiamo tutti quanti ho messo anche gulam nella lista perché in rosa solo che non possiamo giudicarlo gulam ha giocato poco e niente quindi senza voto per gulam e lo salutiamo perché abbiamo visto che alla fine non rinnoverà il contratto non gli faranno il contratto entra via da napoli e mi dispiace tantissimo per gulam perché le infortuni al ginocchio alla fine ha pesato su una carriera intera poteva diventare veramente uno dei migliori terzini sinistri d'eurova grande fa così e grazie per tutto quello che ci hai dato in ultimo diamo un 6 e mezzo a spalletti anche se qualche partita i campi sono stati sbagliati le tempistiche sono state sbagliate mertens è stato utilizzato molto poco però dobbiamo anche tener conto che spalletti ha dovuto affrontare tutto l'anno tra molteplici infortuni il covid che ha decimato la squadra la coppa d'africa gennaio alla fine si è trovato con a giocare sempre con 13 14 calciatori quindi nella gestione totale un grande 6 e mezzo però poteva essere un 7 se puntava più su mertens simen come coppia d'attacco e invece ha fatto valere i suoi principi che per amor di dio saranno anche giusti che io non sono né un allenatore né un tecnico di calcio quindi sono prettamente un tifoso che dai voti a ciò che vede 6 e mezzo a spalletti speriamo di rifarci l'anno prossimo per un grande 7 e in ultimo voglio concludere dando un purtroppo lo devo dare un quattro e mezzo al presidente non per la gestione economica della società perché sappiamo che de laurentis a livello economico e di gestione è un grande imprenditore l'unico problema è il fattore umano quando il napoli ha buttato la partita con la fiorentina secondo me una squadra che voleva puntare allo scudetto doveva avere comunque il presidente dietro che spronava tutti i calciatori a far meglio a far bene a dimenticare la partita solo che si è visto un paio di partite dopo hanno cominciato a fare le scene che dovevano venire un po prima a livello temporale secondo me se fossero accadute prima qualcosa in più ce la saremmo giocata comunque a livello umano l'abbiamo sempre saputo che il presidente con le sue uscite sempre folcloristiche folcloristiche dire poco perché a volte fa delle uscite che distrugge proprio l'ambiente nella sua totalità questo è il presidente a livello aziendale non si può discutere perché a livello economico della rentis è impeccabile quindi però il 4 e mezzo quest'anno te lo becchi perché a livello umano caro presidente non ci siamo proprio questo era il pagellone mio di quest'anno del napoli se vi è piaciuto o se avete idee diverse lasciatele nei commenti qui sotto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche ci vediamo nel prossimo video ciao ciao